In Germania si sta lavorando per legalizzare la cannabis, mentre in altri paesi è tollerato un modico possesso di quantità, naturalmente se non si è alla guida. In Portogallo la depenalizzazione di tutti gli stupefacenti nel 2001 ha dimostrato l'inefficacia della guerra alla droga e lo scorso aprile è stata presentata una proposta di legge per legalizzare la cannabis. In Spagna la coltivazione e l'uso personale di cannabis e spazi privati sono depenalizzati e sono nati i Cannabis Social Club. delle associazioni senza scopo di lucro che vogliono difendere i diritti dei consumatori. Malta invece è stato il primo paese d'Europa a legalizzare l'autoproduzione e il consumo di cannabis per scopi ricreativi. In Italia si continua ad imboccare la strada del proibizionismo, dimostrando una mancanza di apertura mentale e un'incapacità di comprendere i benefici sociali ed economici che una regolamentazione potrebbe portare.